Ecco il primo mostro di Prosecco Superiore. Siamo a ridosso dei Cavallot Tramiane e Col San Martino. Qui le vigne di Gleria esistono da sempre, come la fatica nel raccogliere grappolo per grappolo il frutto delle viti in pendenza. E ogni anno, tra malattie e maltempo, in questi giorni si inizia a valutare la produzione. E un parere l'abbiamo chiesto ad un viticoltore speciale, perché unisce la passione per il vino a quella per la sua gente. Sindaco, ma oggi anche nella veste di viticoltore, come sta andando questo inizio di raccolta del Prosecco in questa zona della DOCG? Allora, diciamo che intanto si inizia, sta andando, l'annata è, diciamo, come possiamo definirla, un'annata un po' particolare. Si riscontra la presenza di un po' di malattia, però insomma, tutto sommato, la produzione qua da noi è anche buona. Fortunatamente la tempesta ci ha lasciato tranquilli. Sulle viti i chicchi maturi, ma anche qualche segno di peronospora e mal dell'esca. Poco o niente invece per la temutissima flavescenza dorata. Flavescenza dorata no, perché qui da noi si è fatto un lavoro grazie agli agricoltori che si sono messi in rete con trattamenti mirati, fatti tutti insieme, per cui non siamo riusciti ovviamente a debellarla, ma i grossi problemi che avevamo qualche anno fa, adesso diciamo che ci hanno un po' lasciato tranquilli. E allora qual è, diciamo così, il nuovo problema? Eh, quest'anno stranamente è ricomparsa la peronospora, una malattia che tra virgolette non ci ha mai abbandonato, ma che quest'anno in qualche modo è riuscita a prendere possesso un po' dei nostri vigneti. Prima provvinature per il mosto che dà 14 gradi babo, corrispondente a 9 alcolici, quindi pienamente all'interno del disciplinare. Tutto sommato quindi un avvio positivo per il prosecco superiore, che tra l'altro incassa in questi giorni un insolito riconoscimento. Nel suo tavolo il sindaco è arrivato una novità addirittura dal Ministero delle Finanze. Sì, grazie ad un nostro concittadino è arrivata la moneta che quest'anno, fatta dal Ministero delle Finanze, che quest'anno è dedicata al Veneto, in particolare al Prosecco e alla Granseola.